premiamo rec perché già l'altra volta è un po' un casino è successo un casino quindi stavolta lo premiamo prima Cristian sta ridendo però lo premiamo prima facciamo il ciak? si facciamo il ciak vuoi fare il ciak? ciak doppio ciak aspetta facciamolo insieme ci sei sei o small talk small talks small talks small talks buonasera o buongiorno o buon pomeriggio non sappiamo quando staranno guardando questo podcast ciao James ciao Andre sei pronto? hai visto? io ti ho avvisato con ampio margine giusto e quindi tu ti sei preparato per questa puntata Cristian non è vero l'ho avvisato all'ultimo secondo ragazzi ma io sono qui e sono contentissimo super hai visto che ho aggiunto un sacco di roba allo studio tantissimo tra l'altro ti sei portato da dire si è portato i funk o pop personali suoi cioè vedi la nerdaggine come poi come prende si è portato i suoi personali Zoro Enma Rufi Rufi va bene va bene senti io partirei subito così proprio a schiaffo va bene che dici? lo facciamo? va bene va bene allora vediamo un po' vediamo un po' vediamo andiamo alle domande tu sei pronto? ne ho segnate tipo 400 va bene ce la fai dura tipo 6 ore e mezzo questa puntata vi va bene? vi va bene allora allora dai la prima domanda è facile quella quale per tutti ti chiedo di presentarti ok ciao piacere io sono James e sono un danzatore slash movement artist slash giocatore videogiocatore flash nerd giusto e mi diverto tanto a creare ciò che porto in scena o che faccio normalmente in giro per proprio i corridoi bella questa cosa dei corridoi ammazza e niente fotomodello? no no quello no quello no e creatore di cose creatore di cose sì dai avvicinati al microfono per favore giusto 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 che mi piace parlare con te giratelo come vuoi tanto questo puoi così cioè guardare grande fratello non ce la faccio vabbè puoi girarti tipo così sistematelo come ti pare piace sei sempre troppo lontano da me grazie lei è molto gentile ciao eccomi qua vedi prima domanda reale come hai iniziato il tuo percorso nella danza e cosa ti ha ispirato a diventare un coreografo e soprattutto questa è diciamo la seconda parte della domanda hai saputo fin da subito che volevi essere un coreografo e non un ballerino sai di solito questa parte qui del oddio voglio essere un coreografo voglio essere un ballerino è sempre uno dei dilemmi più grandi ne parlavo pure con Marli nella scorsa puntata è sempre uno dei dilemmi più grandi che ci sono molto spesso è difficile per un ballerino scegliere perché c'è sempre questa voglia di essere al centro dell'attenzione sul palco altrimenti non balleremmo cioè mi sembra abbastanza ovvia questa cosa c'è stato un momento che ti ha fatto scattare la parte di essere coreografo hai sempre saputo di volerlo essere diciamo questa è la seconda parte quindi come ti sei approcciato alla danza che tipo di educazione hai avuto sulla danza e la seconda parte quella del ballerino coreografo allora il primo approccio che ho avuto è stato tramite i primi video che vi dite i Jabba Walkies grandi i Jabba Walkies mi ispirarono tantissimo e incominciai a copiarli ok chiamiamolo copiarli sì perché era veramente tosta copiarli abbastanza sì e da lì poi è partito tutto tra Brian Pussbos che tu lo conosci benissimo Ian tutti i Most Wanted June fino a quando poi non ho intrapreso il percorso seriamente ok perché ho detto ho avuto uno switch ho detto cioè c'è stato un momento in cui hai detto ok dal mi piace mi piace questa cosa provo a farla a casa proviamo a farla seriamente provo a studiare giusto ok e da lì poi ho intrapreso un percorso che è durato per un bel po' fino adesso ok quindi io seriamente il fatto di essere coreografo e ballerino lo metto più o meno nello stesso piano sullo stesso piano perché per te dici o in generale no per me perché la cosa che secondo me differenzia tanto per me è solo quella creatività che tu dici che è grande no scusami tu dici cioè io mi dico che è piccola ma poi la percezione degli occhi della mente degli altri è grande ok la mia la cosa che mi ha fatto capire tanto il voler creare più che coreografare cioè hai dist cioè quindi tu stai facendo distinzione fra creare e coreografare si ok coreografare per me è un lo puoi fare anche no ultimamente ho fatto un corto ok e ho coreografato in tre ore in due giorni tre ore per due giorni creare è stato molto più cioè ci è voluto due mesi di tempo per creare tutta la sezione ok perché secondo me ho capito ho capito la differenza che intendi fra creare cioè è come se coreografare fosse una parte del creare penso che sia una cosa giustissima ok però aspetta dimmi sulla parte dell'educa cioè arriviamo al processo volevo arrivare al processo creativo dopo volevo partire proprio sulla parte del ho iniziato a studiare ok avendo visto poi ho conosciuto due persone anzi no tre quattro scusa ok quattro persone Kioni sì ho conosciuto Mariel Chris e Larkin hai detto proprio quattro nomi a caso hai detto cioè proprio quattro così queste quattro persone avvicinati un po' no avvicinati proprio il microfono senza che ti avvicini tu queste quattro persone mi hanno fatto capire che l'essenza del movimento cioè è come no ti dà quella non so quel sentimento quella sensazione quel quella quel qualcosa che c'hai dentro riescono a tirartela fuori ok è strano come io non mi ricordo hai studiato ovviamente con Chris Larkin non lo so per certo ma anche con Mary Kioni e Mary hai studiato hai studiato a Verona sì giusto ok quando era nel 2018 ok mi sa che Nando li portò sì ciao Nando saluto grazie quindi hai studiato anche con loro sì ed è stato fenomenale beh nella mia nella mia mente io loro li metto tutti nello stesso grosso insieme giusto cioè se devo pensare a tutti i coreografi loro stanno nello stesso insieme Chris è proprio la mentalità la loro mentalità no di voler comunicare qualcosa tramite gruppi grandi o tramite come Kioni e Mary che creano passi a due ok mi ricordo una volta che mi fece riflettere tanto il fatto dei telefonini ci fecero una coreografia ci fecero una coreografia assurda solamente con questi due telefonini ok parli sempre dello stesso stagio Cristiano non dice mi sa che c'era pure lui a quello stagio no? no un video sì è stato fighissimo è penso nel 2000 sempre il 2017 18 ok quindi hai studiato hai iniziato poi hai iniziato a magari decidere come studiare e con chi studiare a un certo punto tramite vedendo chi chi riusciva a comunicare qualcosa ok quindi ho incominciato a intraprendere un percorso anche dentro la testa dicendo mi comunica qualcosa ok c'è qualcosa che mi comunica oppure è solo un passo sì perché noi possiamo fare secondo me noi possiamo fare anche mille passi ma se con quei mille passi tu non mi comunichi qualcosa io dico sempre che ginnastica eh giusto giusto lo dico sempre diventa solo un memorio muscolare certo e prima o poi il nostro corpo riesce a memorizzare tutti i movimenti basta che ci ti ci alleni tantissimo ok e alcuni hanno proprio il gene no la predisposizione la predisposizione invece sull'ultima parte della domanda cioè hai sempre saputo di voler essere un coreografo e non un ballerino oppure no oppure non so nella mia testa io ti individuo so che sei anche un ballerino ma più come un coreografo però non so se tu hai deciso una di queste due cose oppure io non so nemmeno se sono un ballerino o un coreografo io prima prima io voglio dirlo sempre ok la mia prima passione è il basket e poi poi viene la musica ok e tutto ciò che c'è dentro la musica i videogiochi e la danza sei una brutta persona no non proprio brutta no sto scherzando sto scherzando diciamo non passioni no scherzo 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 quindi all'inizio volevo diventare un giocatore di basket ma predisposizione no ok musica predisposizione oltre però sono andato a fare le basi guarda da come ti allontani dal microfono mentre parli come cantante è un po' difficile ma ho cominciato a studiare tantissimo ok no lo so e so che è una tua grande passione perché insomma ovviamente ci conosciamo guarda caso cioè non lo sapeva nessuno noi in realtà ci conosciamo da tanti anni quindi videogiochi insomma anche lì non sono tanto bravo però sei un videogiocatore sì ok la danza è la cosa che però riesce a unire tutte e quattro penso le cose anche con il basket perché per me basket è poesia pura movimento in azione continuamente ok va bene va bene dai non entriamo troppo perché sennò poi ci saltiamo le altre domande passiamo alla seconda dai allora cosa rappresenta per te la danza come forma di espressione hai detto scusami perdonami hai detto ovviamente hai già anticipato che per te la danza è comunicazione quindi è sicuramente la tua forma di espressione in questo momento una delle forme di espressione in cui riesci meglio a comunicare quindi cosa rappresenta per te questo tipo di comunicazione è un po' profonda come domanda sì giusto hai presente quando penso quando balli tu ti porti sempre dietro qualcosa anche se siamo sempre stati cioè ci hanno sempre detto di portare sempre fuori tutte le cose fuori dalla sala che ci succedono nella vita comunque te un residuo lo porti è giusto è giusto quindi anche se sei stanco ti sei fatto mille ore di lavoro tu me lo dici quando quando balli durante la performance tanto è vera sta cosa tramite lo sguardo cioè è proprio riesci a leggere la persona tramite un movimento soprattutto poi se la se la conosci la cosa è che quando sei arrabbiato quando ti senti stordito quando quando sei innamorato sei innamorato certo cioè questa cosa riesci cioè molte delle volte un sacco di ballerini non riescono a fartelo comunicare subito questa è la cosa che io sto cercando di entrare dentro proprio capire come comunicare questa cosa ok dato che noi siamo sempre stati abituati a dover sentire e noi abbiamo studiato fin da fin da piccoli lo studio della lingua sì certo rispetto a uno studio di corpo dici come comunicazione parlare invece che usare il corpo giusto e infatti sto cercando io sto scrivendo e facendo cose per capire questa come poter capire questa cosa senza dover sentire comunicare col corpo invece che col ma in modo con le parole in modo non a libera interpretazione no no capito chiaramente sì ma tra l'altro come detto tu all'inizio secondo me lo facciamo cioè nel senso a me è capitato spessissimo nella mia esperienza che ovviamente è la mia personale di percepire magari quando ero un ballerino che facevo le classi percepivo il fatto di ok mi sa che il coreografo oggi sta un po' arrabbiato e quindi oppure mazza il coreografo sta proprio preso bene sta cosa è fighissima e ti arriva a prescindere ti arriva solamente con lui che balla e questa cosa è ovviamente la cosa fighissima sarebbe riuscire a controllare questo cioè riuscire a trovare un modo per comunicare con la danza senza bisogno di parlare e dire ok questa è una coreografia dove sono arrabbiato quindi adesso arrabbiati e basta questa roba così vabbè si spera diciamo che che sia un obiettivo raggiungibile cioè può essere raggiungibile però sicuramente c'è un percorso da fare con i ballerini secondo me vedi che adesso si vede tanto tecnica c'è veramente tanta tecnica soprattutto questa generazione qui avendo studiato tantissimo vedi veramente tanta ma tanta tecnica tanta bravura madonna è una cosa che disse pure fra nella puntata la puntata con Francesca De Leonora mazza le nuove generazioni ballerini sono fortissime cacchio fortissimi fortissimi ma l'unica cosa che non vedo la testa no no dai è la comunicare certo l'unica cosa che vedo quando ballano la cosa che trasmettono è dimostrare che esistono o comunque è l'intenzione di dire qualcosa stai ballando però è tanto questo tutto insieme tutto forte quando tu puoi andare anche con calma sì 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 cioè vabbè un altro discorso andiamo avantissimo dai allora domanda numero 4 quali sono le tue ispirazioni o principali influenze artistiche e culturale quando crei coreografie scusami ispirazioni artistiche culturali plurali quando crei coreografie e allora ispirazioni culturali e artistiche in generale è qualsiasi cosa cioè cosa ti ispira in realtà io mi ispiro molto alle persone che non danzano è strano no ti giuro che non sei il primo che mi da questa risposta assolutamente e io la trovo giustissima e ovviamente mi ispiro anche alle persone che c'ho intorno ma forse una una cosa che che mi ispira tanto sono i videogiochi figo e i manga capirai lì apri un capitolo enorme cioè c'è un sono degli storyboard un universo di creatività all'interno delle storie dei manga che è infinito praticamente loro sono bravi a farti capire tutto come se fossi cioè no tramite no come gli shonen ora parliamo come se fosse solo battaglia certo quando invece c'è tutta una storia dentro mamma mia pensiamo a one piece sì quante quante morali sì sì quante morali ci sono dentro beh in realtà magari schiavitù lo so è assurda magari one piece non lo conoscono tutti che è assurdo però partiamo da dragon ball che sicuramente è un manga che conoscono tutti è un cartone che conoscono tutti anche lì ci sono una quantità di morali informazioni e cose che ti vengono date al di là del c'è quello che dà un pugno a quell'altro sì giusto ma molto oltre c'è quello che dà un pugno a quell'altro giusto e quindi mi faccio prendere poi soprattutto nei manga sembrano tutte storyboard no quindi sembrano tutte immagini che tu puoi prendere ispirazione quindi vedi l'angolazione di come come ha disegnato Kishimoto vedi Toriyama oppure vedi Ichiroda quindi sì 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 scusate sono i mangaka cioè sono quelli che hanno scritto Naruto oppure One Piece oppure Dragon Ball esatto eh sì Dragon Ball purtroppo ha lasciato Toriyama ci ha lasciato e comunque stavo dicendo questi manga sembrano veramente degli storyboard per far sì che cioè tu tu leggi tu guardi e vedi angolazioni che tu prima no nella testa se tu volessi fare eh un video concept non ci avresti mai pensato eh queste cose sono figli cioè mi piacciono veramente tanto allora ti dico una cosa che si collega a quello che hai appena detto e tra l'altro ne parlavo con il miglior amico di Cree che è Mauro Puccini che è uno dei per me il miglior fotografo di danza che c'è in Italia è capitato che qualche giorno fa abbiamo passato qualche giorno insieme abbiamo lavorato per un evento che si chiama Body and Deep un evento che hanno fatto a Roma e e abbiamo parlato è capitato che con Mauro parlassimo di questa cosa non è proprio uguale però è un discorso estremamente simile parlavamo dei video musicali e del fatto che io Mauro prima di me ovviamente è un po' più grande di me ma anch'io siamo cresciuti ma secondo me anche tu con magari la generazione MTV cioè i video musicali quel tipo di video cioè guardare i video a partire da da Michael Jackson probabilmente più o meno quello che mi ricordo i primi video che mi ricordo passando per tutti gli anni 90 tutti quei video musicali arrivando agli anni 2000 tutta quella roba lì è come se ha creato la nostra visione cioè noi ci ispiriamo perché siamo fatti di tutta quella roba giusto e in questo caso parlava di video musicali nel tuo caso ovviamente parliamo di manga però tutta quella roba fa di te quello che poi sei cioè il tuo modo di vedere come dicevi tu la tua angolazione con cui vedi un ballerino con cui vuoi fare un'inquadratura tutta quella roba è frutto di un insieme di informazioni che il tuo corpo negli anni ha elaborato possono essere i video musicali possono essere i manga però è troppo figa questa cosa io sono infinitamente d'accordo mi piace tantissimo tantissimo ed è la riprova che cavolo la danza in questo caso perché parliamo di danza in questo podcast è fatta da tutto ciò che non è danza giusto che si somma tutto insieme dentro di noi e poi viene fuori attraverso la danza è vero è vero bellissimo bellissimo va bene sono felicissimo di questa di questa risposta allora passiamo all'altra domanda sì molto bella la risposta della precedente mi piace un casino allora hai un processo creativo definito quando crei una aspetta hai un processo creativo definito quando crei una nuova coreografia oppure un qualcosa di più spontaneo cioè di solito segui un qualcosa oppure ti lasci un po' prendere a secondo della situazione come processo creativo sai ti faccio un esempio Marley mi diceva che lei quando parlavamo del suo processo creativo lei mi diceva che spessissimo il suo processo creativo era abbastanza uguale cioè a lei piaceva creare in sala a lei piace creare in sala e molto spesso anche partendo da piccole idee da routine di 10-20 secondi poi quello che succedeva nel momento in cui doveva fare un lavoro magari una creazione un po' più ampia che allargava quella roba là però il principio era sempre lei in sala che montava quei ragazzi ok quindi tu hai una sorta di routine più o meno così oppure è a seconda di quello che ti succede è a seconda del progetto che ti viene richiesto allora io vado a seconda dei dubbi che mi faccio ok e mazza che domanda che risposta complicata vai faccio la faccio questa questo esempio ok l'ultimo video che ho fatto ok l'ho fatto tramite una sola frase ok che è tu lo sai ok qual è la frase e da lì si è creato tutto il il dubbio il dubbio mio ok e ci ho fatto tutta una specie di trama narrativa a seconda di a partire da quello sì a partire da quello quindi io mi baso molto su questa cosa sulla fiducia vedo le persone che non sono tanto affiatate e quindi creo un passo a due a tre a quattro a cinque per far sì che loro riescano ad avere una connessione una connessione si chiamiamola così proprio per no sono ma quindi le persone sono una delle variabili che ti ispirano quando crei sì perché vedo e conosco io una delle cose che non mi piace è lavorare con persone che non conosco però lo sai che ti succede lo so lo so lo so ma una delle cose che non riesce non riesce cioè non che non mi piace ma non riesco ad attivare al cento per cento la mia la mia mente è proprio lavorare con persone che non non conosco allora secondo me conoscendoti non è che non cioè hai bisogno di creare una connessione con i tuoi ballerini prima di poterci creare qualcosa probabilmente sì è come se io dovessi fare un lavoro creerei prima con le persone che conosco e poi trasferirei tutto quanto con le persone che non conosco ok ho capito che intendi sì ma quando devo creare io tramite come hai detto te se è studiato oppure spontaneo io ti dico è tutto cioè io studio una sensazione ok come questo dubbio come un'altra gara coreografica che ho fatto era un'altra domanda mi ero posto un'altra domanda come effetto domino mi sono posto uno uno ce la fa ad andare avanti da solo o serve sempre servono le persone ok uno può essere un supereroe oppure si deve fare sempre carico di pesi e quindi rimanere da solo sempre in solitudine ok ok ho capito fondamentalmente il tuo la tua musa ispiratrice tra virgolette sono i dubbi ma neanche i dubbi sono delle domande che magari ti poni nella vita e che sviluppi all'interno bella bellissima questa cosa grazie prego ma si figuri come siamo formati allora c'è una coreografia un progetto a cui sei particolarmente legato e se sì perché e ovviamente tra parentesi ho scritto evento domino però no non è detto ovviamente non è detto che quella sia la parte alla quale tu sei più legato al progetto però mi piaceva insomma parlarne perché è una cosa che abbiamo creato anche un po' insieme quindi giusto e quello a me è piaciuto tutto il processo è piaciuto tantissimo ok l'unica cosa che scarterei se lo stai per dire veramente è la coreografia ah no pensavo a un'altra cosa stavi per dire no no è proprio la coreografia ma che sei pazzo è troppo ma aspetta col senno di poi col senno di poi tutti i coreografi scarterebbero le coreografie quindi non vale più questa cosa che hai detto quindi no no giusto giusto dai però tutto il processo che c'è stato come ti ho detto no prima per fare la coreografia ci ho messo una settimana anzi anche meno di una settimana e poi ci ho fatto pulizia eccetera eccetera però è tutto il contesto che ci stava prima sì sì certo e che era che era bellissimo cioè proprio prima della performance era per me era già bellissimo tutto ok conoscere le persone anzi andiamo ancora prima 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 chiedere a te di fare questa questa unione di cosa questa aspetta che spiego perché magari la gente non lo sa quello che è successo è che quando a James è stato chiesto di partecipare a evento domino per portare una coreografia mi ha chiesto di creare insieme una musica quindi abbiamo creato da zero fondamentalmente una canzone in realtà è una canzone che poi a posteriori è stata pubblicata però all'epoca ci stava solamente un leak quindi una fuoriuscita non so come ti scegliere in italiano di una voce e quindi noi basandoci sulla voce di Travis e Kanye Travis e Kanye abbiamo creato ciao Travis e Kanye che ci state guardando ciao Travis e Kanye che ci state guardando abbiamo creato adesso muoio tutta la parte musicale ti dico anche che anche per me è stato un processo che lo dico stupendo perché affiancare la parte creativa musicale e la parte creativa coreografica perché quello che è successo noi non abbiamo creato la canzone e poi chiuso il pacchetto abbiamo tu hai creato la coreografia abbiamo tu hai creato la coreografia è stato proprio un processo in parallelo cioè creavamo magari io seguito da te creavo tutta una serie di cose poi tu le provavi in sala poi c'era qualcosa che non andava tornare indietro modificavamo delle cose è stato un processo creativo in parallelo fighissimo era come andare sempre così quindi musica e danza che andavano così ok vedevo la danza stava andando troppo no allora la musica la dobbiamo perfezionare ancora meglio la raggiungeva certo tutta tutta questa cosa poi c'era la moda quindi i vestiti che a me piace e che poi mi sono fatto aiutare tantissimo da dana marchino brava dana è stata super con i vestiti e poi il video dietro che sta facendo adesso sta sempre dietro che l'altra persona è sempre lui che l'ha fatto christian ovviamente e cioè tutto il processo i ragazzi che sono stati dietro a ricordare cioè viene a lacrimuccia figata ma quindi è quello no io non volevo è quella la cosa che ti è piaciuta di più oppure a cui sei più legato ce n'è un'altra ce n'è un'altra non ti volevo portare a dire quello assolutamente non era mia intenzione c'è un'altra vai un progetto mio è di Gris tanto sempre due anni fa penso ok con due ragazzi Chiara Porchianello e Pachi si è stato così abbiamo fatto un gioco di come chiamarlo nemmeno gioco d'ombre perché sono uno sta dentro il corpo di un altro no no era ciechissimo sì me lo ricordo come no è credo sia ancora online sì 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 lo trovate nella pagina di Christian e quindi è quello sì cioè sono questi piccoli momenti in cui vado a andare cioè vado oltre oltre vado oltre segnatevi la parola segnatevi oltre vado oltre e cerco di guardare non solo il fattore danzistico ma guardare anche il fattore di come posso dire visione ho capito che intendi anche la parte visiva quello che vedo deve essere al pari della parte cioè la coreografia non è solo quella giusto devo anche vederla quello che dicevamo prima no da una certa angolazione perché decido che da quell'angolazione quel passo ha più senso piuttosto che vederlo di fronte è una figata questa cosa anche perché unire l'aspetto visivo che molto spesso quando crei una coreografia di per sé difficilmente pensi a la voglio inquadrare di qua la voglio vedere di là unire questi due aspetti è molto 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 interessante come come lavoro sì va bene va bene io vado avanti sì ok allora come bilanci l'innovazione nella danza con il rispetto per le tecniche e gli stili tradizionali perché questa domanda eh lo so questa domanda perché quello che succede è che quello che fai tu in particolare è fondamentalmente non definibile all'interno di uno stile preciso quindi che cosa succede io non posso dire che tu fai hip hop io non posso dire che tu fai house io non posso dire che tu fai dancehall posso dire che tu fai modern non posso dire che tu fai classico e non credo neanche di poter trovare un nome perché quello che fai tu è frutto di un insieme di fusioni di contaminazioni di stili e di cose varie quindi però ci sono sempre delle tecniche che tu utilizzi che fanno parte di più stili in realtà giusto buona fortuna con la risposta questa questa risposta è molto molto grande eh lo so ok io ho studiato e ho studiato un libro di Rudolf Laban ok teoria del movimento che mi fa percepire tutti i passi in maniera passi di passi ok so che c'è veramente tutta una cultura dentro e e so che come usare passi di determinati generi sì non voglio andare a specificare no no certo i stili uno dell'altro certo devono essere solamente dentro quella diciamo quello stile ok io vado a vedere il principio vado ad analizzare il principio di quel movimento la matrice ok e vado a lavorare su quello quindi come un bounce ok vado a definire il bounce il bounce che cos'è realmente il bounce è un movimento che va a prendere il ritmo quindi il bounce si avvicina tanto al ritmo la persona perché l'ha chiamato bounce eccetera eccetera quindi vado ad analizzare ogni è proprio il movimento e non il passo giusto esatto qui da lì poi riesco a capire questo riesco questo movimento riesco a unirlo anche con un altro tipo di movimento ok e riesco a concepire principi non più passi ok ho capito che intendi come vabbè come ti ho detto prima e quindi riuscire però aspetta la domanda la mia domanda è la seguente ho capito che tu ti focalizzi sul movimento e non sul passo cioè il bounce è un passo diciamo base chiamiamolo così una foundation diciamo così tu ti focalizzi su il movimento che sto eseguendo in quel momento con il corpo piuttosto che sul quello è un passo che si chiama bounce e fa parte di quel determinato stile e partendo dall'analisi del movimento parliamo del bounce ma posso dire una pirouette in danza classica quello che è tu ti focalizzi più sul ok il movimento è fatto in quel modo cioè la gamba che sale va in passè poi sali con la mezza punta inizi a girare spinta la sto spiegando benissimo però fondamentalmente tu tu lavori più sul movimento che viene eseguito piuttosto che sul passo ma una premessa di 100 ore ma l'hai studiata però quelle cose sì comunque sì sì ok quindi no perché non vorrei che passassi il messaggio che si può fare vai a analizzare e basta analizziamo e basta e non studiamo niente ma perché se non c'hai esperienza non hai avuto un training un allenamento per poter fare quello tu non puoi analizzarlo ad occhio nudo solo solo cioè lo puoi analizzare ad occhio nudo ma se il tuo corpo non è preparato a poter fare quello non riuscirai comunque a farlo ok lo so che è una ovvietà però ma forse andava detta ah ok non lo so sinceramente ne si avrei detto tutto però bello molto interessante questa cosa sì grazie stai rivelando tutti i tuoi segreti adesso ti copieranno tutti no dai è scherzo diciamo ognuno ha un modo proprio per no per identificarsi io ho trovato questa modalità ok c'è chi come si chiama il tuo stile il mio stile riprendo no dai scherzo no però posso posso rispondere a questa domanda riprendo dalle parole del mio mentore ok realismo concettuale wow che figata ok james fa realismo concettuale avete capito sì va bene non mi aspettavo che succedesse questa cosa va bene ok allora prossima domanda quanto è importante per te e l'hai già detta questa cosa quindi poi anche il rapporto con i ballerini che scegli per le tue coreografie e i tuoi lavori come costruisci questa connessione quali sono le qualità che cerchi in un ballerino quando lavori ad un progetto hai in parte già risposto a questa domanda prima però non so se puoi aggiungere qualcosa tipo come li scegli e che caratteristiche devono avere i ballerini per poter lavorare a un tuo progetto magari comunicare ok devono sapermi trasmettere anzi non solo a me saperlo saper saper trasmettere a tutti quanti ciò che vogliono dire anche se è tutto no quindi che non capisce ancora bene ok e lì poi si va a lavorare insieme però avere quella voglia di di voler comunicare qualcosa di voler dire anche che stai bene ok ok quella quella è la cosa che mi che mi fa venire voglia di di conoscerli ma quindi non ti è mai capitato di lavorare con un ballerino che non conoscessi si 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 a voglia e in quel caso come ti comporti in quel caso era vedevo no la bravura tecnica ok di questa persona quindi compensazione era bravura tecnica ma sai quando una persona no esistono quei momenti in cui quando una persona sta sul palco sta solo ferma ti da più si si io voglio quindi capire lì comincia a bilanciare il gruppo quindi generalmente non lavoro con una due persone ma con un gruppo dove tutti quanti hanno delle pecche tutti quanti hanno dei pro e dei contro quindi bilanciare il movimento stesso quindi bravura una persona durante la performance poi momento di momento pre drop quindi prima della dell'esplosione si dell'esplosione metti un'altra persona che riesce a catturare tutti quanti dimmi se sbaglio tendenzialmente cerchi non cerchi mai un gruppo omogeneo ti piace l'eterogenicità nei gruppi cerchi ballerini differenti tra loro in modo da usarli in vari punti perché tutti quanti hanno dei pro e contro non esiste il gruppo perfezione la perfezione anzi l'imperfezione forse è la perfezione totale non ho capito che intendi oddio i Jabba Walkies diciamo che maledetti poi vedi arrivederli no lo so ovviamente ero ironico avrei potuto anche citare gli shit kings che purtroppo ormai conoscono in pochi però se non li conoscete andate a vederli perché sono incredibili anche loro sul palco erano impressionanti identici però ognuno di loro aveva quella sfumatura particolare che lo rendeva unico giusto che bravi che erano mi piacevano da morire oddio piacevano ancora adesso lavorano loro però sono giapponesi come ballerini però lavorano solo in Giappone e creano loro spettacoli adesso ho visto in Giappone davvero? lo sapevo in teatro soprattutto bravissimi bravissimi proprio oggi tu vuoi farmi solo domande disnettive ci siamo quasi ci siamo quasi allora questa è una domanda un po' particolare ok perché secondo me è una cosa che succede a chiunque come affronti il blocco creativo e hai tecniche particolari per ritrovare l'ispirazione allora no non è facile questa è tosto lo so blocco creativo allora di base ci sta cioè è una cosa normale può succedere la cosa che faccio è gioco ai videogiochi oltre sì a staccare sì se a ti chiedo di avvicinarti al microfono ok scusa di nuovo di nuovo mannaggia a me avvicinatelo proprio così tanto che ti frega sì oltre a staccare vado se parliamo di danza quindi con persone che parlano di danza vado a rilavorare sulle foundation mie ok quindi vado di nuovo a a rivedere no come che tipo di movimento ho io per lavorare sulle pecche che ho quindi come se ti focalizzi sulla parte tecnica sì figo per poi giocare su questa parte tecnica e grazie a questo giocare riesco di nuovo a inebriarmi di fantasia ok ok come la cosa importante per me per non avere un blocco creativo e essere sempre dei bambini perché i bambini una delle grandi cose mie è che io da ragazzino giocavo con i miei amici immaginari ok tutti hanno fatto credo spero 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 perché gli amici miei no i vecchi amici no però giocare no creare storie io andavo col bastone andavo a combattere contro le cose che erano immaginarie eccetera eccetera un po' un po' mi sto cringiando io da solo però sì stiamo facendo una puntata di verissimo stiamo facendo la cosa però che mi aiuta tuttora è avere quel tipo di pensiero quel tipo di immaginazione perché poi da lì riesci a crearti una storia e il blocco mentale si trasforma in qualcosa che tu hai tipo trampolino anzi grazie a quel blocco mentale sei riuscito a ripartire ancora più in su ok ok tra l'altro è molto particolare questa risposta perché tendenzialmente quello che succede ed è sempre stata una risposta con cui io sono stato molto d'accordo il ballerino ma come tutto ciò che è creativo a un certo punto hai bisogno di staccare e allontanarti da quella cosa perché poi riavvicinarti dopo ti rende molto più creativo e molto più produttivo e invece questa roba che hai detto tu non è una risposta così scontata che mi hanno mai dato ad altri scusami coreografi a cui ho chiesto questa cosa quindi è veramente interessante perché alla fine noi dato che lavoriamo sempre con la danza oddio che brutto dire lavorare è un lavoro è un lavoro noi danza noi danziamo mattina e sera tutti i giorni e quindi se tu vuoi fare questo tu non ti staccherai mai dalla danza anche se tu dici che stacchi comunque c'hai quei quei cinque minuti dieci minuti no ma staccare significa che non sto cento ore in sala no 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 giusto staccare significa che guardo un film guardo un anche quello no ti fa immaginare secondo me anche un pochino la danza no ma lo deve fare nel senso leggere un libro come hai detto tu leggo un manga perché poi dopo in quel momento io sto pensando al manga e alla storia ma poi dopo quello che succede perché poi io lo utilizzo dopo quella cosa che ho fatto non ho capito niente io no io pensavo staccare proprio è tipo no per me staccare equivale ah completamente tipo così no no intendo proprio che fai una cosa parallela ok che non è direttamente mai collegato alla danza che magari è la cosa principale del tuo lavoro ma quella cosa che fai in parallelo tipo mi guardo gli Avengers un film a caso o leggo un libro o faccio una cosa quello poi in futuro senza volerlo poi influenzerà quello che faccio nella danza è vero assolutamente è vero e soprattutto la sua parte dell'agretività è figo che lo so che è la seconda volta che lo cito però è risuccesso sempre parlando con Mauro sempre Puccini il migliore amico di Cristian è successo che parlavamo del fatto di l'importanza di vabbè è partito dai social network è partito da tutta una pippa mentale allucinante ma il discorso era leggere i libri quando tu leggi un libro sei obbligato a immaginare quello che sta succedendo è un processo naturale che succede nella tua testa non la fai apposta quando tu guardi una cosa su un telefonino guardi una cosa in un film è così punto quella cosa quante volte è successo che tu magari prima leggi un libro e ti sei immaginato una cosa poi vai a vedere il film di quel libro e magari quel personaggio quella cosa te l'era immaginata completamente diverso poi quello che succede è che poi a un certo punto ti si blocca e tu te la immagini solo in quel modo in cui l'hai vista però prima c'è stato tutto il processo immaginario che ti ha aiutato tantissimo quindi sono d'accordo adesso non volevo ricringiarti su un bar degli immaginari però era per dire che sono d'accordo su questa cosa dell'immaginazione cringe allora quanto stiamo mazza oh dai stiamo andando benissimo cringe ultime tre domande yes super easy la tua visione della danza è cambiata con il tempo e se si come? ci sono così tante informazioni che ci vengono dati tutti i giorni madonna e quindi vedi proprio chiamiamo la wave di come cambia ogni anno anche ogni sei mesi il modo il genere parte tantissimo anche dalla musica questa cosa decisamente quindi la mia visione però l'unica cosa che non cambia è il voler comunicare non solo a certe persone ma a tutte le persone cambia il mezzo ma non l'obiettivo giusto giusto però è cambiato però è cambiato il mezzo negli anni il mezzo sì grazie anche alla formazione alla formazione che mia sì sì proprio a quello che tu impari man mano e quindi ogni anno era come un level up quindi incomincia a capire come funziona il mio corpo fino ad ora fino ad adesso anche se adesso so il 10% del mio corpo sì per esattezza quindi manca ancora tanto nella vita non si può nemmeno non si riesce nemmeno a studiare no ma poi forse non avrebbe neanche senso studiare tutto probabilmente sì devi mirarti dopo una certa devi mirarti però devi capirlo quando sai almeno che direzione ti sta dando il tuo corpo la tua danza la tua mente ok devi sempre come io ho ricominciato alla soglia dei 30 anni a fare di nuovo bounce ok solo bounce tutte foundation proprio per cercare di capire con la nuova consapevolezza bellezza che c'ho come mi approcciavo a quella roba giusto sì sì che rispetto a 10 anni fa forse anche un po' di più ma forse a quell'epoca tu le fai in maniera inconsapevole è ovvio che sia così e farlo adesso con un tipo di movimento che hai che hai piano piano lavorato lo vedi con un'altra maniera non so se mi spiego no 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 certo assolutamente hai quello che hai detto prima hai una consapevolezza completamente diversa quando impari a fare il bounce a 8 anni e quando studi il bounce a 30 è un universo completamente separato da una cosa all'altra è vero sì 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 va bene niente vuoi aggiungere qualcosa a questa risposta no voglio scappare da questa risposta abbiamo le ultime due domande allora quali consigli daresti ai giovani che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della danza e della coreografia se avete l'obiettivo di diventare numeri uno comunicate sembrava uno spot elettorale io lo zio d'America no esatto così I want you no secondo me prestate attenzione a comunicare porco cane stavo per dire una parolaccia è quello è semplicemente quello secondo me ciò che adesso no fatto di velocità eccetera eccetera sì tutti quanti hanno la pressa di dover andare subito a prendere si capito la cosiddetta fomo la cosa per me è no mostrate non dimostrate wow wow madonna stai sparando proprio questo è il mio motto bellissimo mostrate non dimostrate votate James mostrare non dimostrare so che è solamente una sillaba di differenza però cambia tantissimo il modo in cui tu vai a percepire la cosa perché in tutti e due casi tu stai dimostrando ma in tutti e due i casi tu stai mostrando la paura è capire realmente cosa vuol dire mostrare e dimostrare certo questa cosa di mostrare è molto più interna si è molto più come posso come posso spiegarlo anche ma mostrare io mostro il modo in cui sono ok io mostro la via della di come ho seguito no come ho lavorato in tutti questi anni ok perché nessuno dei due è giusto nessuno dei due è giusto o sbagliato ma forse è una scelta se scegli di dimostrare è una scelta però sii consapevole che stai dimostrando della roba giusto e ti sei fermato è come se ti sei fermato a un livello un pochino più superficiale giusto mentre se stai mostrando delle cose scendi a un livello leggermente più profondo giusto di comunicazione credo che sia quello dimmi se sbaglio no per me è così dimostrare infatti io lo vedo tanto di impatto che puoi essere cioè sei anche potresti diventare anche il ballerino più forte del mondo sì sì dimostrando ah no certo certo sai quante ce ne sono no assolutamente però io no personalmente vado a vedere se mi hai comunicato qualcosa ok e questa cosa per me è la cosa più importante di un ballerino di un danzatore di un move maker move maker che chiamiamo in tutti i modi va bene molto molto due consigli due credo comunque dei consigli veramente interessanti ballerini nuove generazioni ascoltate e votate James ultima domanda sei pronto mazza io pensavo fossero passati solo 20 minuti no siamo quasi a un'ora quindi sì sì hai visto allora ci sono progetti internazionali o collaborazioni che sogni di realizzare in futuro o in generale ti piacerebbe fare qualcosa e tendenzialmente quando faccio questa domanda chiedo sempre agli ospiti di sparare grosso cioè nel senso la roba più folle che ti viene in mente che vorresti fare ce l'hai? sì vai spara Italia tutti qua che sarebbe? non ho capito non ho capito nel senso vorrei proprio far conoscere allora una volta il mio l'Arkin mi disse qui in Italia ci sono così tante persone forti perché non sono conosciuti questa è una domanda incredibile ma io non ho una risposta oddio ho delle ipotesi ma non ho una risposta perché veniamo sempre guardati così perché non non andiamo nelle altre nazioni è questo perché non conosco parigini che stanno qui cioè perché non vedo quelli di Barcellona che vengono qui capito il senso? perché allora lo dicono e quindi mi faccio mi faccio delle domande vorresti cioè diciamo che l'obiettivo tuo il sogno quello sarebbe far conoscere il valore dell'Italia e dei creator in questo caso italiani italiani all'estero ma pensi che ci sia un motivo cioè tu hai provato ad analizzare la situazione e dire secondo me gli italiani non sono abbastanza valorizzati all'estero per questo motivo oppure non è una cosa a cui hai pensato? no ci ho pensato ovviamente c'è tutta una struttura dietro a livello di no non credo che la risposta sia univoca eh sì di governo eccetera eccetera rispetto a altre altri posti ok come la Germania come Parigi stessa come Francia stessa ma io parlo proprio di persone perché alla fine alla fine a fin dei conti in fin dei conti come posso spiegarlo? siamo ti do la mia teoria ok non ci credono abbastanza e siamo a parte che siamo molto 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 esterofili in generale lo siamo sempre stati molto esterofili però molto spesso crederci ed essere convinti di una cosa convince pure gli altri una cosa che ho notato molto spesso anche in ballerini e in creator veramente incredibili è che non ci credono loro per primi abbastanza e tendenzialmente quando non sei tu per primo a crederci abbastanza è difficile che riesci a convincere gli altri mentre al contrario all'estero ho notato molto spesso persone anche con meno talento di tantissimi coreografi e ballerini italiani che però venivano chiamati o comunque lavoravano un sacco a parte che hanno un modus operandi più sono più bravi a lavorare hanno tutta una serie di cose vabbè poi qua si potrebbe aprire un capitolo enorme in Italia mancano le agenzie c'è un capitolo gigantesco si potrebbe aprire però tendenzialmente riassumendo male riassumendo molto molto male probabilmente una delle cose che il ballerino il coreografo italiano quello che è trovo che non sia molto abituato a darsi l'importanza che merita e ci abbiamo veramente della gente super mega brava che fa la roba è vero però e poi magari arriva quello estero e dice è fortissimo magari tu sei cento volte più forte di quello che sta avvenendo che non vuol dire che non devi studiare pure con lui però vuol dire datti il giusto valore giusto penso eh non lo so ho fatto una somma un riassunto molto veloce il fatto che non ci credono abbastanza questo è vero perché diciamo è proprio l'influenza che c'è generale qui ok e questa cosa però mi fa capire allora dai svegliati 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 cerca di di prendere quello come pretesto per dover aumentare di più fare di più eccetera eccetera sì credo che sia un processo un pochino a lungo termine cioè non credo che ci sia una soluzione che tu premi un bottone e risolvi questa cosa penso che sia proprio una questione un po' lunga però è una questione che sarebbe veramente importante secondo me risolvere perché ripeto abbiamo dei talenti incredibili in Italia come ballerini come coreografi come direzione artistica abbiamo della roba sì veramente troppo 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 bravo troppo forti e ok questa no questa mia che ho sparata grossa no no però è una figata non l'hai sparata grossa no no nel senso no la domanda che io potevo sparare sì sì certo questa cosa è una secondo me è un'idea che quasi tutti riescono a sentirla questa cosa che siamo forti no 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 la roba forte sì che in Italia ovviamente c'è della roba grande ma la domanda è perché si ha paura di come hai detto te no di fare intravedere questa cosa saranno mille insicurezza saranno tante cose cioè ognuno qual è proprio la matrice di questa cosa faremo una puntata con uno psicologo per cercare di capire questa cosa io sinceramente non credo di avere ne anzi credo che nessuno di noi abbia gli strumenti per dare una risposta e questa è la cosa no ma adesso mi sta venendo il processo creativo certo non so perché così all'improvviso questa tramite questa nostra discussione è arrivata la domanda quella domanda perché qual è la matrice capito è sempre figo no parlare soprattutto con persone ora sto parlando con te quindi anche tu tu mi stai dando tanto il modo in cui tu mi rispondi il modo in cui tu mi stai dicendo le cose facciamo una cosa che non ho mai fatto è una cosa che odio lasciate un commento e dateci la vostra la vostra motivazione sul perché questa cosa in Italia non funziona hashtag Italia va bene comunque sappi che era l'ultima domanda questa qui grazie per aver fatto parte della seconda puntata della seconda stagione di Small Talks grazie Cree che come al solito sta lì e mi dà una mano enorme tra l'altro questa è la prima puntata che abbiamo fatto con tre camere quindi spero che sia venuta bene poi nel montaggio poi ditecelo per favore se è venuta bene lo studio si sta riempiendo sempre di più robe ho messo un sacco di cavolate sempre bellissimo super nerd ma continueranno a esserci sempre più cose anche nelle prossime puntate grazie James grazie a te veramente per questa chiacchierata io faccio partire la sigla finale sei pronto? yes vado? si no 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 no